Ciao a tutti, vi comunico che anche quest'anno sarò presente ai maestri del panettone il 30 di novembre, il primo di dicembre, con queste due nuove creature che vi presento in anteprima. Allora parto da un panettone che si chiama i tre cioccolati, per cui è tutto poesia. E' il primo taglio ufficiale. Sorpresa! Non l'ho visto. Ben arrivato. E adesso l'altro. Augusto, si chiama Augusto, è un nome particolare che poi vi spiegherò un po' nei dettagli. È un nome importante perché è un panettone importante. Anche questo al taglio mi sembra che sia una roba veramente splendida. Eccolo qua. E questo è Augusto. È pieno di gusto. È un panettone che ha una composizione molto molto particolare. Ho lavorato quest'anno con delle amarene, con caffè e una nota di cioccolato bianco che è veramente una poesia. È solo da assaggiare. Vi aspettiamo. Ciao a tutti. Grazie. 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 Grazie.